salve a tutti dal vostre bagatta oggi vi propongo una nuova serie ovvero impariamo a programmare con python i nostri videogiochi che cosa tratteremo in questa serie beh partiamo subito con col sodo con la vera ciccia della questione ovvero ci creeremo direttamente il nostro primo videogioco utilizzando una libreria che si chiama pi game che oltre a permetterci però appunto di sviluppare giochi per diversi ambienti windows mac linux android o quello che ci potrebbe interessare ci permette anche in effetti di poter sviluppare applicazioni di genere del tutto tradizionali che può essere anche un foglio di calcolo una gestione di un archivio di un negozio eccetera 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 però comunque pi game nasce come libreria che ci dà già dei metodi pronti per poter creare i nostri giochi allora cosa dobbiamo fare immediatamente beh sicuramente dovete avere con voi un programma o per meglio dire un foglio in cui poter scrivere il vostro codice di python va benissimo anche il blocco note volendo comunque fermo restando che punto primo dovete aver installato il linguaggio di programmazione vero e proprio in questo caso utilizzeremo la versione 3.9 di python ma va bene anche la 3.7 o la 3.8 l'importante è che comunque sia della serie 3 python 2 non va bene quindi serve comunque python 3 e poi in questo caso dovrete installarvi anche la libreria appunto di pi game come si installa la libreria di pi game pip install pi game semplice semplice direttamente dalla vostra schermata di riga di comando io che cosa vado a utilizzare come editor di testo per programmare vado a utilizzare pi charm un editor gratuito ve lo consiglio anche a voi è ben fatto è facile da utilizzare comunque fermo restante potete utilizzare il vostro editor che più preferite quindi prima cosa che dobbiamo andare a fare andiamo sul nostro terminale e installiamo la libreria di pi game quindi pip install pi game adesso lui la scaricherà e l'andrà a installare direttamente era già installata sul mio computer quindi non ha riportato tutto ciò che riguarda il download dei file l'ha direttamente installato perché questo è una nuova un nuovo progetto e quindi l'abbiamo preparato in questo suo nuovo ambiente cosa facciamo allora ragazzi andremo a farci un un platform a scorrimento in cui avremo un aeroplanino che dovrà evitare un attacco missilistico quindi dovremmo gestire un un aeroplano il nostro personaggio principale dovremmo gestire dei missili che ci verranno incontro e quindi le collisioni quindi dovremmo sapere quando il nostro aeroplanino verrà in contatto con questi missili o quando andrà a toccare il suolo visto che l'aeroplano dovrà volare non dovrà precipitare per terra in più aggiungeremo anche un punteggio così da poter vedere quanto tempo duriamo e quanti punti riusciremo a fare come iniziamo iniziamo importando la libreria di pi game quindi import opla non spostarci sopra import pi game e andiamo a capo dopodiché ci servirà la libreria random perché ci servirà libreria random perché dovremmo far sì che i missili che ci verranno incontro siano posizionati in modo casuale quindi in modo randomico e portiamo anche random perfetto quindi vogliamo metterci anche un commetto per mettere il nostro codice far sì che il nostro codice sia più leggibile possibile sì slash slash no no slash slash questo è un altro linguaggio programmazione cancelletto importiamo le librerie così se a distanza di tempo dovessimo andare a rileggere il nostro codice avessimo dei dubbi su ciò che abbiamo fatto grazie ai commenti diverrà tutto di più facile lettura poi inizializziamo la libreria pi game come si fa pi game punto init come potete vedere il nostro pi charm già ci permette di completare direttamente le nostre righe di codice ok quindi pi game punto init aperta chiusa parentesi tonda e iniziamo subito a caricare le immagini che ci serviranno nel nostro gioco quindi vi farete una cartellina all'interno del vostro progetto in cui andate a mettere tutte le immagini che utilizzerete all'interno del gioco allora carichiamo che cosa per iniziare lo sfondo del nostro gioco la chiamo chiamiamo direttamente sfondo uguale pi game richiamiamo la libreria di pi game punto image punto load quindi carichiamo direttamente la nostra immagine cosa dobbiamo inserire dobbiamo inserire tra virgolette il percorso in questo caso noi stiamo creando il progetto è la cartellina dell'immagine la metteremo all'interno del nostro la nostra cartella di progetto sarà dentro una cartellina chiamata immagini immagini slash e qui metteremo appunto le immagini che vorremmo caricare allora un attimo che sposto e metto le immagini del gioco all'interno della cartellina del nostro progetto per appunto e fatto questo una volta che andremo a caricare per appunto la nostra cartellina immagini lui ce la riconosce direttamente facendo slash mettiamo quella che vogliamo di sfondo lui riconosce subito che all'interno della cartellina immagini c'è un'immagine che già comincia con la parola sfondo e in questo caso segnato anche i pixel quindi la dimensione che avrà questo sfondo che di 781 per 260 quindi la nostra finestra di gioco avrà questa forma di 781 per 60 e direttamente viene caricata dopo di che andiamo a capo mettiamo l'immagine del nostro sprite principale ovvero del nostro aereo useremo un biplano come quello del barone rosso quindi biplano uguale pigame.image.load sempre dentro la cartellina immagini e l'aeroplano abbiamo chiamato biplano ecco la riconosce che ha una dimensione di 800 per 417 pixel come avete visto 800 per 417 pixel quindi molto più grande rispetto al nostro sfondo questo aereo plano in questo momento se dovessimo caricare il gioco prenderebbe tutto lo schermo del gioco non lo vedremo neanche per intero quindi che cosa dobbiamo fare abbiamo due possibilità o prendiamo la nostra immagine tramite un programma di grafica lo andiamo a ridimensionare oppure utilizziamo uno strumento all'interno di pigame che ci permette già di ridimensionare lo stesso aeroplanino come si fa noi lo vogliamo piccolino lo vogliamo di una dimensione di 100 pixel per 52 come facciamo scriviamo sempre biplano che è il contenitore il nome contenitore che conterrà la nostra immagine che utilizzeremo in gioco uguale pigame punto transform transform ci permetterà appunto di ridimensionare di richiamare le funzioni di ridimensionamento delle nostre immagini transform punto scale che poi appunto ci permette di cambiare la dimensione di scalare la dimensione di scalare la dimensione dell'immagine ok qui dentro cosa dobbiamo dargli dobbiamo dargli le dimensioni per asse x ed asse y che dovrà avere la nostra immagine in questo caso dovrà essere 100 per 52 pixel in verticale 100 in orizzontale 52 in verticale di che cosa però di dell'immagine biplano cioè dell'oggetto biplano che abbiamo caricato prima quindi di biplano virgola e queste coordinate le mettiamo all'interno dei parentesi tonde queste dimensioni quindi la nostra riga per scalare il tutto sarà biplano uguale pigame punto transform punto scale di che cosa dell'immagine biplano riportata alla dimensione di 100 e 52 diamo uno spazio qui per rendere tutto più leggibile andiamo a capo che cos'altro ci potrebbe servire beh noi già sappiamo che l'immagine che ho caricato in realtà ha il muso dell'aereo che guarda verso sinistra io invece voglio che il muso dell'aereo guardi verso destra quindi che cosa dobbiamo fare dobbiamo ruotare l'immagine stessa anche questo lo potremo fare da un qualsiasi programma di grafica ma lo stesso pigame ci offre anche questa possibilità di ruotare l'immagine quindi anche qui utilizzeremo sempre il la funzione transform ma sarà flip quindi scriviamo di nuovo biplano uguale pigame punto transform punto flip perfetto che cosa dobbiamo mettere qui dentro dobbiamo richiamare sempre l'oggetto che vogliamo modificare sempre biplano virgola e qui dobbiamo dire dove la vogliamo girare la nostra immagine sempre considerando che viene prima x e poi y quindi se vogliamo ruotarla da destra a sinistra sarà true false quindi x diventerà true perché dovrà essere ruotato se invece vogliamo ruotarla dall'alto verso il basso sarà false sulla x sarà true sulla y quindi in questo caso visto noi vogliamo fare una rotazione da sinistra a destra scriviamo true mi raccomando sempre con la prima lettera maiuscola virgola false ok scrivendo così diciamo che su asse x deve ruotare su asse y deve rimanere invariato se avessimo voluto fare il contrario avremmo messo false sull'asse x e true sull'asse y se vogliamo proprio ruotarla e specchiarlo completamente avremmo messo true e true andiamo a capo adesso ci cariciamo anche le immagini dei missili che dovremmo evitare all'interno del gioco quindi missile uguale pi game punto image punto load sempre di sempre dalla cartella immagini quindi ricordatevi le virgolette immagini slash missile ovviamente ho dato dei nomi chiari a queste immagini così dalle renderle più facili per farci capire meglio il codice che stiamo scrivendo anche qui potete vedere che queste immagini dei missili avranno una dimensione di 486 pixel e 407 troppo grande anche questa l'andremo a scalare e a ruotare in modo tale che in questo caso invece il muso del missile vada a puntare verso il muso dell'aereo quindi questo missile da questa dimensione la porteremo 80 per 80 pixel quindi missile e per fare questo già sapete cosa dobbiamo fare prima dovremmo usare il comando scale e poi flip quindi missile uguale pi game punto transform punto scale di missile virgola aperta parentesi e mettiamo le dimensioni quindi abbiamo detto 80 virgola 80 e quindi il nostro missile avrà una dimensione di 80 pixel per 80 pixel giriamo il muso del missile quindi missile qui mettiamo sempre lo spazio per rendere bello leggibile e chiaro il nostro codice così che sia ordinato e di facile lettura missile uguale pi game punto transform punto flip di missile e anche in questo caso varieremo soltanto l'asse x quindi true e false ok fino adesso abbiamo caricato l'immagine dello sfondo l'immagine del nostro aeroplanino principale che andremo a muovere sullo schermo e l'immagine del missile che poi saranno più missili ma tanto ci basta crearlo una volta e poi lo potremo usare più volte cosa ci manca ancora ci manca una base una base che dia movimento al nostro sfondo che dia quel senso di movimento stesso quindi per creare uno scrolling quindi base uguale pi game punto image punto load e qui come ben sappiamo virgolette immagini virgola e qui ci serve la base base di 900% pixel la base considerate dovrà essere leggermente più grande dello sfondo e comunque la nostra finestra è che ci servirà poi un effetto di scrolling e dovremo dare un effetto di movimento quindi fatela leggermente più ampia, più lunga e abbiamo anche la nostra base adesso che altro ci potrebbe servire? ci servirà sicuramente una scritta di game over ovvero nel momento in cui andremo a sbattere contro il nostro missile dovremo avere un'immagine di game over che comparirà a schermo quindi game over uguale pi game punto image punto load sempre di immagini game over ok infine vogliamo mettere anche un logo della nostra software house in erba che stiamo creando in questo caso erba gatta ci sta tutta quanta quindi mettiamo anche il comando logino il comando logini il nome che vogliamo dare noi a questo contenitore potrebbe anche chiamarsi logo, loguccio, loghetto, come volete voi logino uguale pygame punto image punto load sempre della cartella immagini e prendiamo il file logino punto jpeg in questo caso non avremo delle trasparenze con png possiamo avere delle immagini con trasparenza con i file jpeg non abbiamo queste trasparenze comunque questo al momento non ci serviva una trasparenza su questo logino e lo prendiamo così com'è perfetto il logino lo voglio pure ridimensionare perché è troppo grande quello di questa immagina stessa e quindi tramite il comando scale che adesso conosciamo lo andiamo a ridimensionare a una dimensione di 70 pixel per 70 pixel quindi logino quindi logino logino uguale pygame punto transfer punto scale di logino li chiamiamo il nostro oggetto virgola aperta parentesi tonda mettiamo le dimensioni 70 di 70 pixel ok e in questo momento abbiamo definito tutte le immagini di gioco che verranno caricate all'interno del nostro software del nostro programma quindi mettiamo un bel commento qui carichiamo le immagini del gioco piccolo spoiler vi faccio vedere il gioco come sarà una volta che abbiamo completato il nostro programma così da avere un'idea di quello che stiamo effettivamente andando a creare ecco qui il nostro aeroplanino che si muove all'interno della della nostra finestra quindi avremo un un aeroplano del nostro banale rosso i missili che ci verranno incontro la base del gioco che andrà a scorrere lo sfondo del gioco stesso un contatore di punti per vedere quanto riusciamo a totalizzare e il logino che abbiamo inserito appunto nel gioco stesso quindi muoveremo il nostro aeroplanino in tutte le posizioni che vorremmo poterlo far andare decideremo di evitare i nostri missili faremo attenzione a non toccare per terra altrimenti andremo a esplodere e se sbattiamo contro un missile ecco qui che perdiamo va tutto in game over ok così abbiamo visto anche quale sarà il risultato finale di tutto ritorniamo sul nostro codice e continuiamo a scrivere il codice del nostro gioco eccolo qua perfetto a questo punto cosa dobbiamo fare dobbiamo settare la finestra di gioco la vera e propria finestra in questo momento noi abbiamo soltanto caricato le immagini che dovremmo andare ad utilizzare nel gioco ma ancora non abbiamo niente in cui poter visualizzare queste immagini quindi ci creiamo direttamente la finestra quindi settiamo la finestra di gioco ecco come si fa creiamo immediatamente il contenitore che conterrà tutta la nostra finestra la chiamiamo direttamente finestra si chiamano bella in maiuscolo uguale pygame punto display punto set mod quindi tramite questo comando pygame punto display punto set mod andremo a definire la dimensione della finestra del nostro eseguibile ovvero quanto sarà grande la finestra del nostro eseguibile questa la varieremo in base a ciò che vogliamo crearci non so un gioco in 1080p un gioco in 720p un gioco per cellulare che dovrà avere un altro formato di finestra in questo caso noi dovremo creare un gioco come quello che vi ho fatto vedere una striscia sottile per uno scroll di questo planino che dovrà evitare i suoi missili abbiamo detto che di 781 per 260 lo sfondo che abbiamo creato e creeremo quindi una finestra di gioco di 781 pixel per 260 come si fa? semplicemente apriamo parentesi tonde 781 di lunghezza quindi sull'asse x e 260 pixel sull'asse y in verticale fatto questo vogliamo anche mettere un titolo sopra la finestra se siamo in ambiente windows o linux o mac sì come facciamo? semplice semplice pygame punto display set punto display punto set caption e qui sopra possiamo decidere di mettere sia un logo sulla sulla barra del titolo che soltanto il titolo in questo caso noi vogliamo chiamare il nostro gioco barone rosso visto che abbiamo un biplano rosso ci spediamo al famoso barone rosso dopodiché che altro dobbiamo fare con la nostra finestra principale del gioco? dobbiamo decidere a quanti fps a quanti frame per secondo dovrà andare il nostro gioco stesso quindi creiamo sempre la nostra variabile fps uguale e gli diciamo e gli diciamo che dovrà andare a 50 fps di quanto dovrà essere lo scrolling la velocità di avanzamento dello sfondo dei nostri missili che avrà verso di noi anche qui creiamo una variabile avanzamento uguale a 3 infine creeremo il font per poter visualizzare il punteggio a schermo font uguale pygame punto font punto sysfont qui cosa dobbiamo inserire? dobbiamo inserire il tipo di font che vogliamo utilizzare la dimensione ed eventuali caratteristiche non so se deve essere in grassetto se deve essere sottolineato se deve essere barrato o in corsivo quindi che font andremo a utilizzare andremo a utilizzare il comic sans quindi apriamo virgolette comic sans ms virgola dobbiamo scegliere la dimensione del font portiamo a 50 virgola lo vogliamo anche in grassetto quindi bold uguale true ok così con questa riga abbiamo definito anche la dimensione del nostro punteggio che sarà di 50 di altezza fatto in grassetto col comic sans abbiamo una finestra di 781 pixel per 260 abbiamo un frame per seconda di 50 frame per seconda e un avanzamento di 3 pixel per secondo e abbiamo messo un titolo al gioco che è appunto barone rosso bene fin qui ci siamo finalmente abbiamo creato la base della finestra del nostro gioco adesso che cosa dobbiamo andare a fare dobbiamo a inizializzare dobbiamo creare anzi un un gruppo di variabili che dovranno essere utilizzate a livello globale in tutto il nostro gioco quindi dovremo creare le variabili che ci serviranno per contenere tutti i dati del nostro gioco con una funzione creeremo direttamente nella funzione inizializza quindi ci creiamo direttamente una funzione che conterà tutte le variabili quindi def inizializza ok parentesi tonde due punti e iniziamo a creare le variabili di tipo globale quindi global ci servirà una variabile che ci indichi la posizione del nostro aeroplano quindi sull'asse x e sull'asse y considerate sempre che abbiamo un asse cartesiano da dover utilizzare in cui l'asse x cresce da zero e va ad aumentare mentre l'asse y cresce da un certo tot e va a diminuire a zero quindi va in negativo sale verso l'alto ok a differenza del classico asse cartesiano quindi le coordinate del nostro aeroplano sull'asse x lo chiameremo biplano la variabile la chiameremo biplano x mentre per quanto riguarda l'asse y la nostra variabile la chiameremo biplano y così da essere chiaro non ci possiamo sbagliare sappiamo che per indicare l'asse x è biplano avremo biplano x per indicare l'asse y del biplano avremo biplano y dopodichè ci servirà una posizione per la base del nostro gioco quindi creiamo un'altra variabile global base x per avere la posizione della nostra base poi dovremo creare la variabile missili global missili che conterà appunto tutti i nostri missili dovremo creare una variabile che ci permette di sapere lo spazio che c'è tra i missili così da poterci passare in mezzo con il nostro planino e non rischiare di avere una collisione quindi global tra i missili dovremo creare una variabile per mettere all'interno i punti che stiamo facendo prima noi abbiamo caricato l'immagine per il font dei punti abbiamo creato font uguale pegame punto font sysfont adesso dobbiamo creare proprio la variabile che conterà il punteggio che stiamo facendo in questo momento con il nostro gioco quindi global punti e poi dobbiamo inserire se il nostro gioco è attivo oppure non è attivo quindi global run quindi se stiamo facendo se stiamo giocando non stiamo giocando dopo di che dovremo andare a definire queste variabili ovvero già dobbiamo dare dei valori a queste variabili il nostro aeroplano sullo schermo a che punto deve essere visualizzato quando parti il gioco quindi dobbiamo già decidere il nostro planino quando noi avviamo la partita dove si trova si trova a sinistra a destra in alto in basso dove vogliamo noi come facciamo richiamiamo direttamente le variabili che abbiamo appena creato quindi biplano x e biplano y uguale direttamente le coordinate quindi 60 sull'asse x e 150 sull'asse y dopodiché dobbiamo dare anche un base di partenza per la base vera e propria quindi base x uguale a 0 dobbiamo andare a definire quanti punti abbiamo inizio partita punti uguale a 0 visto che abbiamo cominciato appena la partita e creiamo la lista per tutti i missili che dovranno essere contenuti all'interno della variabile missili quindi dobbiamo crearci una lista che sarà missili uguale apriamo e chiudiamo parentesi quadro in più all'interno della nostra classe missili all'interno della nostra lista missili dovremmo metterci che cosa il valore di questi missili stessi come utilizzeremo questi missili andremo a creare una classe proprio che si chiama classe missili dove andremo a gestire la creazione in modo random di questi missili il loro posizionamento e eventualmente la collisione con il nostro aeroplanino la classe missili la chiameremo missili classe quindi già possiamo crearcela quindi per riempire la lista missili cosa andremo a scrivere andremo a scrivere missili punto append di che cosa della classe missili che andremo a creare quindi missili classe ok al momento ancora non ce l'abbiamo questa classe tra poco la creeremo dopodiché lo spazio tra i missili in questo momento c'è o non c'è dobbiamo dire che partiamo già che c'è questo spazio che noi ci stiamo passando in mezzo quindi andiamo subito a definire tra i missili con un valore booleano perché appunto c'è o non c'è sì o no uguale false infine il gioco run uguale true ok e fin qui abbiamo creato tutte le variabili che ci serviranno per il nostro gioco quindi mettiamo anche qui il nostro bel commento per rendere tutto più leggibile cancelletto settiamo le variabili del gioco a questo punto fatto questo cosa ci tocca fare dobbiamo creare la famosa classe missili di cui abbiamo parlato prima ovvero dovremmo poter creare questi missili in modo random a farli comparire nello schermo una volta più in alto una volta più in basso e far sì che praticamente possiamo sapere in qualsiasi momento la loro posizione così da poter sapere se andiamo in collisione con il nostro aeroplano quindi per sapere quando andiamo a perdere quindi definiamo la classe missili un bel commentino che ci è sempre d'aiuto e iniziamo a crearci la classe come si crea una classe con class il nome della classe che abbiamo già deciso sarà missili classe due punti def inizializziamo la classe init self e andiamo a capo adesso dobbiamo andare a definire quale sarà la posizione di creazione di questi missili in modo random sulle coordinate x ed y come si fa a fare tutto questo richiamando per appunto la libreria random che abbiamo inserito all'inizio nel nostro codice e lo utilizzeremo in questo modo ovvero della classe missili l'oggetto stesso self quindi self punto x per quanto riguarda le coordinate appunto sull'asse x uguale random punto randint e gli diamo le coordinate del range random in cui andremo a creare questi missili quindi visto che vogliamo che questi missili compaiono vengono generate al di fuori dello schermo visibile a noi in modo tale che poi quando entrino già siano stati posizionati e non ci compaiono all'improvviso sullo schermo le andremo a dargli delle coordinate sull'asse x al di fuori di ciò che noi visualizziamo il nostro display abbiamo detto che è di 781x260 quindi andremo a creare questi missili all'esterno di questo spazio e gli daremo un range di 150 pixel in cui andare a creare delle coordinate random dove far spawnare questi missili appunto su x e utilizzeremo 800 tra 800 e 950 pixel adesso dobbiamo decidere anche l'altezza sull'asse y in cui andare a far spawnare questi nostri missili sempre rimanendo in questo caso invece all'interno del range della nostra finestra che è di 260 pixel ok ragazzi quindi facciamo attenzione 260 pixel e ovviamente i missili dovranno anche essere al di sopra del terreno eh perché sennò giustamente rischiamo che poi i nostri i nostri missili si ritrovino alla alla stessa altezza del terreno il terreno la base che abbiamo creato è di 100 pixel quindi se noi abbiamo una finestra di 260 pixel e togliamo già 100 pixel di base avremo un range di gioco di 150 pixel di 110 pixel anzi per meglio dire consideriamo una tolleranza tra il sopra e il sotto della nostra finestra di gioco di 10 pixel 5 più 5 pixel abbiamo un range di utilizzo da 1 a 150 pixel quindi di 150 pixel a questo punto noi andremo quindi a fare qua abbiamo perso una f di self andremo quindi a crearci le coordinate random in cui dovranno spanare questi missili sulla determinata coordinata x anche su una coordinata y compresa di 150 punti quindi facciamo self in questo caso punto y uguale random punto radint tra 1 perché qui vi ricordo che andiamo dal più basso dal più alto al più basso quindi dal negativo al positivo da 1 150 e così abbiamo definito il posizionamento della nostra del nostro missile adesso dobbiamo definire che cosa dobbiamo definire lo scrolling dei nostri missili in base alla velocità di avanzamento che avevamo definito prima di 3 pixel quindi lo scrolling ovviamente dobbiamo fare sull'asse x quindi definiamo la funzione di scrolling def scrolling sempre di se stesso dei nostri missili della nostra classe missili e sarà self x punto x meno uguale quindi avremo uno scrolling da destra verso sinistra meno uguale di che cosa appunto di avanzamento della variabile che abbiamo detto prima di 3 a questo punto dobbiamo aggiornare la nostra finestra di gioco per aggiornare l'immagine dei missili che si muoverà sulla finestra stessa quindi richiamiamo l'oggetto finestra punto blit di che cosa dei nostri missili quindi di missile che è l'immagine quindi non la classe missili ma missili è proprio l'immagine che abbiamo caricato virgola con le posizioni self punto x che appunto è il valore random creatoci appunto dal random punto randint tra 800 e 950 pixel virgola andiamo anche al posizionamento y self punto y e in questo momento abbiamo stiamo creando a schermo che cosa un missile creato randomicamente tra 800 e 950 pixel su x e 1 e 150 su y che si muoverà da destra verso sinistra con un avanzamento di 3 pixel al secondo ok vogliamo rendere tutto più movimentato e più difficile in gioco aggiungiamo un secondo missile possiamo farlo si semplicemente richiamiamo nuovamente la finestra del nostro gioco punto blit ancora missile e diamo che cosa diciamo che alle coordinate random che creiamo vogliamo aggiungere un secondo missile che sarà sempre distante dal primo 150 pixel in linea retta e 25 pixel in linea verticale quindi come si fa abbiamo parentesi tonde self punto x più 150 virgola self punto y più 25 5 ed ecco che abbiamo creato anche il secondo missile ovviamente questa cosa la potreste anche fare in modo randomico in modo tale che un secondo missile abbia anch'esso un metodo di scrittura a finestra che sia random ve lo lascio a voi se volete sperimentare fate liberamente bene 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 adesso però mi ha aggiunto qua sopra un parentesi tonde in più che non ci serve altrimenti poi ci dà errore andiamo a capo che cosa dobbiamo fare in questo momento abbiamo creato in modo random il nostro missile abbiamo definito lo scrolling dei nostri missili a schermo adesso dobbiamo andare a definire un'eventuale collisione del nostro aeroplano contro i missili per sapere se appunto ci andiamo contro o se invece li evitiamo così da poter fare punteggio come si fa a fare questo creiamo un'altra funzione def collisione di self del missile con che cosa però in questo caso con il nostro aeroplano quindi andiamo a definirci all'interno della nostra funzione oltre che ai missili anche biplano e le sue coordinate biplano x e biplano y ok decidiamo che ci sia anche una tolleranza di pixel così che magari sfioriamo leggermente il missile ma che non lo non abbiamo una collisione con lo stesso abbiamo una tolleranza di 5 pixel quindi creiamo una variabile tolleranza ovviamente vi ricordo che i nomi che sto dando le variabili potete mettere quello che volete a meno che non siano parole chiave del linguaggio python io ho chiamato tolleranza potreste anche chiamarlo che ne so pippo va bene lo stesso l'importante è che poi per voi sia chiaro di solito conviene sempre dare dei nomi dei variabili che siano chiari per voi che scrivete il codice e magari anche chiari per chi dovrà andarlo a leggere questo codice tolleranza uguale 5 e iniziamo a gestire le dimensioni quindi ci andremo a creare delle variabili che conterranno le dimensioni dei nostri oggetti ovvero le dimensioni del nostro aeroplano e le dimensioni dei missili che stiamo creando così da poter valutare momento per momento se l'ingombro del nostro aeroplano andrà a collidere a sbattere con l'ingombro dei missili che abbiamo creato in modo randomico quindi che cosa ci servirà ci servirà una variabile che chiameremo biplano lato destro per sapere da dove si comincia il nostro aeroplano sul lato destro biplano lato di x uguale a che cosa? a questa formula qui ovvero all'asse x del biplano biplano x più la sua lunghezza che si ottiene che si ottiene in questo modo dall'oggetto biplano punto get with però punto ok get with meno meno la tolleranza ok in questo modo abbiamo un punto creato un una variabile che conterà il posizionamento del della lunghezza del nostro aeroplano aeroplano sull'asse x a destra in questo momento ci servirà anche il suo posizionamento sull'asse x a sinistra così da sapere in qualsiasi momento se toccheremo mai con la corda dell'aereo o con la punta dell'aereo come facciamo a fare tutto quanto questo creiamo una nuova riga di codice biplano lato sinistro lato sx uguale a biplano x più tolleranza perché biplano x più tolleranza che è la nostra coordinata dell'asse x da dove comincia la nostra immagine del biplano perfetto sto vedendo qui sopra i simboli che ci sta portando adesso dobbiamo definire l'altezza bassa e alta del nostro aeroplano quindi vediamo il lato più basso del nostro biplano biplano lato giù uguale in questo caso come si fa asse y quindi biplano y più l'altezza del biplano stessa non meno l'altezza più l'altezza come vi ho detto l'asse sul piano cartesano y va dal maggiore a minore più biplano punto get e quindi chiamiamo l'altezza act meno sempre la tolleranza dei 5 pixel che abbiamo detto ok per leggibilità mettiamo sempre gli spazi tra tutto ok adesso dobbiamo definire anche opra qua ci sta tutto 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 sto vedendo che ci sta un errore qui dove è stato messo una parentesi in più qui togliamo quelle parentesi in più e qui c'è una parentesi in meno ok dopodiché faremo un giro per controllare eventuali errori che ci sono sul codice ecco qui qui ci sta una parentesi in più ok abbiamo tolto tutti gli errori che erano di parentesi aggiunti in più dall'editor stesso ok quindi siamo arrivati al biplano lato giù dobbiamo fare il biplano lato su che sarà semplicemente l'asse y più la tolleranza quindi biplano lato su uguale biplano y più tolleranza e qui ci siamo adesso che cosa dobbiamo andare a calcolare dobbiamo fare la stessa cosa anche per i missili che stiamo creando quindi direttamente per tutti i missili che stiamo creando in questo momento come facciamo a fare questa cosa creando appunto anche le variabili che conterranno il loro posizionamento sugli assi x y in alto e in basso quindi rifacciamo lo stesso gioco anche per i missili quindi missili lato di x uguale che cosa in questo caso è uguale alla classe su cui stiamo lavorando ovvero uguale alla classe della creazione di questi nostri missili randomici come si fa self punto x più missile punto get white per sapere per sapere appunto la larghezza lato sinistro missili lato sx uguale self punto x finisce qui perché noi lo sappiamo sempre dove è dove comincia il nostro missili a sinistro definiamo anche l'altezza del missile stesso missili lato giù uguale self punto y più missile punto get altezza get height e infine il lato su del missile missili lato su uguale self punto y perfetto così sappiamo esattamente quali sono le posizioni dei nostri oggetti di gioco adesso dobbiamo andare a controllare i momenti in cui andiamo a scontrarci con il nostro aero sui missili quindi ci servirà un comando if per sapere quando e se a noi andiamo a toccare con uno dei nostri vertici del nostro planino sopra sotto destra sinistra contro i missili come si fa? allora semplicemente if biplano lato di x dovrà essere maggiore del lato sinistro dei missili ovviamente perché se è minore del lato sinistro dei missili vuol dire che noi avremmo già cozzato contro i missili le stesse quindi dovrà essere maggiore di missili lato sx ma basta questo per sapere se abbiamo una collisione no perché noi non ci basta sapere se il nostro muso dell'aereo è andato contro al muso del missile stesso ma dobbiamo anche vedere che il lato sinistro della coda del nostro aereo sia comunque minore della lunghezza del missile destro altrimenti ci saremmo passati sopra ma in realtà non ci siamo andati contro al missile stesso quindi dobbiamo mettere un secondo controllo quindi la prima cosa che il nostro computer dovrà controllare è che il lato sinistro dell'aereo sia maggiore del lato sinistro del missile ma anche deve esserci una seconda condizione che deve essere verificata che sarà and biplano lato sinistro sia minore dei missili lato destro ok inoltre che cosa dobbiamo anche controllare qui abbiamo verificato che effettivamente i nostri missili non cozzino sul lato dell'asse x del nostro gioco ma dobbiamo anche controllare che siano coerenti sull'asse verticale del gioco stesso quindi è vero che noi non dobbiamo stare in quella posizione ma dobbiamo anche controllare che il nostro aeroplano vada a cozzare anche sull'asse y contro i missili non è che ci passiamo sopra e stiamo su quelle coordinate quindi abbiamo per forza sbattuto sui nostri missili ma dobbiamo anche controllare che ci troviamo effettivamente alla stessa altezza dei missili quindi dovremmo fare un controllo anche sul lato y sull'asse x y quindi un altro if biplano lato su deve essere maggiore dei missili lato su e a sua volta end il biplano lato giù deve essere minore dei missili lato giù due punti se succede questo cosa dobbiamo fare? se succede questo abbiamo perso quindi dovremmo crearci una funzione hai perso che adesso ci andremo a definire a posto adesso basta questo affinché il nostro aereo possa passare tranquillamente tra un missile e l'altro no perché dobbiamo anche gestire la possibilità che il nostro aeroplanino in realtà passi tra un missile e l'altro quindi dobbiamo creare anche una funzione che gestisca il passaggio appunto le collisioni tra un missile e l'altro anche qui mettiamo una nota che commenti gestiamo le collisioni tra un missile e l'altro perfetto e ci creiamo la nostra funzione quindi def tra i missili che abbiamo creato in precedenza tra i missili di che cosa? della posizione del nostro aeroplano quindi di biplano e la sua coordinata sull'asse x y voglio dire biplano y anche qui diamo una tolleranza uguale a 5 e richiamiamo biplano lato giù uguale biplano y punto biplano punto get with meno la tolleranza e biplano lato su uguale biplano y più la tolleranza dopodiché i nostri missili missili lato giù giù occhio agli errori di punteggiatura uguale self y qui siamo sempre all'interno della classe missili missili classe self punto y più missili punto get white e infine missili lato su uguale self punto y e qui ci siamo adesso anche qui dobbiamo fare un if un controllo per vedere se ci troviamo sopra o sotto ai nostri missili quando passiamo col nostro plano quindi if biplano lato giù deve essere maggiore che ho messo uno spazio di troppo lato giù deve essere maggiore di che cosa ragazzi di missili lato su oppure il lato superiore deve essere minore dei missili lato giù quindi se prima abbiamo fatto end perché entrambe le condizioni devono verificarsi in questo caso basta che uno all'altra uno all'altro evento si vada a verificare quindi non entrambi contemporaneamente perché il nostro error non può trovarsi su e giù contemporaneamente quindi or biplano lato su deve essere minore di missili lato giù se questo è verificato return true a posto allora fino a qui abbiamo già visto che cosa in questa nostra prima ora di programmazione abbiamo visto come importare le librerie del nostro gioco ricapitelliamo un pochino come caricare le immagini del gioco stesso quindi ci creeremo una cartellina all'interno della cartella del nostro progetto in cui andremo a mettere tutte le immagini che ci serviranno per il nostro gioco date gli dei nomi che per voi siano esemplificativi dopodiché andiamo a definire la finestra di gioco in cui avremo le dimensioni che dovrà avere questa finestra un eventuale titolo sulla finestra stessa l'fps che dovremo gestire nella nostra finestra lo scrolling dei missili sul nostro gioco quindi gli oggetti con una variabile chiamata avanzamento che avranno la nostra base i missili che avremo incontro e il tipo di fonte che utilizzeremo per il punteggio abbiamo creato le variabili che ci serviranno nel nostro nel nostro gioco mettiamo tutte belle insieme poi abbiamo definito la classe missili quindi questa classe che ci serve a uno per creare in modo randomico tutti i missili che avremo nel gioco e in più dove andremo a gestire le collisioni dei missili stessi con il nostro aeroplano o viceversa la collisione del nostro aeroplano con i missili quindi abbiamo gestito il posizionamento del nostro aereo sullo spazio del nostro asse cartesiano XY e dei missili stessi nonché abbiamo definito le condizioni che dovranno essere rispettate affinché il nostro aeroplano non vada in collisione con i missili ovvero per far sì che il nostro programma sappia quando il nostro aeroplano andrà a collidere con uno dei nostri oggetti missili controlliamo che abbiamo scritto tutto quanto giusto qui abbiamo fatto un errore ecco qui questo è più non è punto più biplano get white meno tolleranza più tolleranza ok può essere che magari qualche errore di scrittura sia scappato tra una riga e l'altra comunque controlleremo effettivamente qui ci mancano i due punti ok nel momento in cui compileremo il tutto e lo manderemo in esecuzione vedremo dove possono esserci degli errori in questo caso lui ci trova ancora un errore qui in hai perso perché perché ancora non abbiamo definito la funzione è perso comunque andremo a definire adesso che cosa dobbiamo fare dobbiamo disegnare effettivamente la finestra del gioco cioè gli oggetti che stanno all'interno della finestra del gioco noi per il momento abbiamo soltanto creato la finestra ma ancora non disegniamo niente all'interno ancora non facciamo scrivere niente al nostro computer quindi andiamo a crearci proprio il a disegnare gli oggetti all'interno della finestra mettiamo un bel commento disegniamo la finestra di gioco ed i suoi oggetti e creiamo la funzione per disegnare quei soggetti quindi def disegna oggetti due punti e via quindi che cosa dobbiamo andare a crearci dobbiamo innanzitutto disegnare nella finestra lo sfondo richiamare l'immagine dello sfondo e la sua posizione quindi avremo finestra punto blit comando che abbiamo visto prima appunto per disegnare a schermo uguale che cosa sfondo la nostra immagine nelle sue coordinate che in questo caso saranno 0 0 proprio dall'inizio della nostra finestra stessa 0 virgola 0 dopodiché dovremmo andare a inserirci i nostri missili quindi con un ciclo ovviamente perché andremo a inserire i nostri missili all'interno della finestra continuamente quindi cosa andiamo a mettere for m quindi una variabile in missili m punto scrolling quindi la funzione che abbiamo creato prima poi dobbiamo disegnarci il nostro aeroplano finestra punto blit il biplano che ovviamente cambierà man mano che si muoverà tutto il nostro gioco sulle coordinate appunto di biplano x e biplano y quindi fetta parentesi tonda biplano x virgola biplano y poi dovremo avere la nostra la nostra immagine della base che si muoverà all'interno della finestra dei principali del gioco stessa quindi finestra punto blit di base qui ovviamente avremo una base y che rimarrà sempre quella una base x che invece cambierà in base allo scrolling stesso per dargli quell'effetto di movimento quindi base x virgola e lo facciamo partire a 220 pixel come altezza e andiamo a capo poi dovremo andare ad inserire i nostri punti quindi dovremmo creare appunto i nostri punti e il colore quindi il render proprio della parte grafica del nostro numero dei nostri punti del nostro fonte che abbiamo creato prima quindi faremo punti render il nome della variabile che conterrà appunto il nostro testo così come sarà renderizzato a schermo uguale font che abbiamo definito prima punto render per appunto come deve essere in formato stringa str di che cosa dei punti che andremo a calcolare man mano che ci sposteremo quindi che è un numero intero anello trasforma in formato stringa per poi farlo renderizzare ed averlo al schermo virgola uno quindi sarà effettivamente visibile virgola e in questo caso dovremo definire anche il colore 255 noi lo facciamo rosso punto virgola zero virgola zero poi potrei scegliere il colore che preferite in base allo sfondo che è creato ok dopodiché dobbiamo portare a schermo i punti quindi la posizione in cui questi punti verranno visualizzati quindi finestra punto blit di che cosa di punti render nella posizione di 644 pixel e 0 y quindi 644 x e 0 y infine aggiungiamo sempre sulla nostra finestra di gioco il nostro logino che abbiamo creato proprio all'inizio quando abbiamo definito il caricamento delle immagini quindi finestra punto blit questo lo metteremo in alto a sinistra come avete visto prima dall'esempio del gioco punto blit di logino e qui con coordinate 0 0 così da averli in alto a sinistra virgola 0 0 ok e qui abbiamo creato la nostra finestra di gioco ok ma questa è una finestra statica adesso dobbiamo far sì che il nostro gioco si aggiorni a quei famosi 50 frame per seconda che avevamo definito all'inizio come si fa? creando appunto la funzione aggiorna per far sì che ad ogni azioni ciclo di gioco la finestra si aggiorni appunto a 50 volte al secondo facciamo def quindi creiamo questa nuova funzione la chiameremo aggiorna e richiamiamo pygame punto display update punto update date e gli diamo il tempo di clock che dovremo andare a a creare come fps quindi pygame punto time punto clock con la C maiuscola punto tick di quanto deve essere della nostra variabile fps che abbiamo definito in precedenza ovvero di 50 adesso che altre funzioni ci mancano ci manca la funzione di e perso che avevamo creato nella classe missili quindi anche qui dobbiamo creare la funzione in caso di perdita che ci permetterà anche di ricominciare il gioco effettivamente o di poter chiudere la finestra nel caso in cui invece volessimo smettere di giocare quindi def hai perso e quindi avremo finestra dobbiamo far comparire la scritta del nostro game over finestra punto blit l'appunto della scritta game over alle coordinate 300 per 130 così da averlo bene o male centrato sulla finestra stessa fatto questo dobbiamo aggiornare la finestra quindi richiamiamo la funzione aggiorna e dobbiamo decidere se far ricominciare o meno il gioco o se far chiudere la finestra di gioco al nostro giocatore in questo caso vogliamo far controllare se effettivamente il nostro giocatore vuole ricominciare lo faremo tramite il tasto spazio del gioco quindi muoveremo il nostro planino con le freccette mentre se vogliamo ripartire il gioco dovremo premere il tasto spazio oppure cliccare direttamente sulla x della finestra per chiudere tutto quanto il gioco quindi per fare questo dobbiamo metterlo all'interno di un ciclo però innanzitutto abbiamo inizializzare una variabile per sapere se ricominciamo o meno il nostro gioco stesso lo chiamiamo ricominciamo facciamo uguale false e creiamo un ciclo while not while not ricominciamo due punti for event quindi in attesa che facciamo qualche cosa sulla nostra tastiera premiamo qualcosa sulla nostra tastiera in pygame punto event punto get quindi proprio in attesa che premiamo un pulsante sulla nostra tastiera se if event punto type è uguale alla pressione di un tasto uguale con il doppio simbolo dell'uguale si mette altrimenti stiamo facendo un'assegnazione con un solo uguale dobbiamo fare una comparazione ovvero che il nostro event type contenga effettivamente proprio pygame punto kdown pygame punto kdown quindi effettivamente deve succedere questo che l'event che stiamo aspettando sia la pressione di un tasto kdown e oltretutto che tasto deve essere dobbiamo definire anche questo quindi oltre che abbiamo premuto un tasto questo tasto dovrà essere il tasto dello spazio quindi end event punto k deve essere uguale a pygame punto k space quindi al tasto dello spazio e qui andiamo a richiamare la funzione inizializza per far ripartire il gioco inizializza e ridifiniamo la variabile ricomincia su true mincia uguale true ma se invece vogliamo uscire dal gioco e vogliamo quindi poter premere il pulsante x sulla barra del titolo dobbiamo andare a definire quindi if event punto type uguale pygame punto quit cosa deve succedere pygame punto quit chiama direttamente una funzione all'interno della libreria di pygame che ci permette di chiudere la finestra allora in 102 ci dice che abbiamo saltato due punti eccoli qua perfetto così almeno siamo sempre corretti e non abbiamo errori di sorta sul nostro codice adesso fino adesso abbiamo creato tutto ma ci manca il gioco vero e proprio il gioco vero e proprio in cui ci sarà il movimento del nostro aeroplanino dei missili i comandi per pilotare il nostro aeroplano quindi richiamiamo la funzione inizializza ok e creiamo il ciclo principale del gioco while true quindi il gioco vero e proprio quindi bel commentone codice di gioco quindi il corpo l'anima del nostro gioco che fino adesso di cui fino adesso abbiamo visto tanto la preparazione di tutto quanto il gioco stesso quindi while true che cosa dimentichiamoci due punti l'avanzamento della base quindi base x meno uguale meno uguale di avanzamento poi che cosa dobbiamo far sì dobbiamo far sì che la nostra base una volta che si sposti per darci quell'effetto di moto venga riportato nuovamente all'inizio così da avere un moto perpetuo non dobbiamo vedere la nostra immagine che comincia e poi finisce e muore lì ma dobbiamo avere un effetto di immagine che ricomincia ogni tot pixel così da darci quell'effetto continuo di movimento quindi if base x è minore di meno 120 dobbiamo far sì che la nostra base x torni a 0 base x uguale a 0 quindi spostato di 120 pixel la nostra base deve ripartire nuovamente da capo si deve riposizionare sul punto 0 una volta che è andato scivolando di 120 pixel a sinistra poi andiamo a inserire il codice per controllare il nostro biplano quindi per farlo muovere con le freccette direzionali sopra sotto in basso a destra e quindi anche in diagonale quindi inseriamo il codice per far spostare il biplano sullo schermo e anche qui andremo a creare un ciclo in modo tale da poter tenere sotto controllo in modo costante ogni nostra pressione sulla tastiera quindi for event in pygame punto event punto get come abbiamo fatto prima che cosa? dobbiamo controllare i quali tasti quelli delle freccette oppure se abbiamo premuto se premiamo il pulsante quit per uscire dal gioco stesso perché comunque anche mentre giochiamo mettiamo che vogliamo chiudere il gioco dobbiamo avere la possibilità di poter chiudere il gioco ragazzi quindi facciamoci subito questo vediamo se vogliamo chiudere il gioco ancora prima di cominciare quindi if event punto type è uguale a pygame punto quit questo lo ricordiamo perché l'abbiamo fatto proprio prima quit run e false poi andiamo a definire i tasti con una classe ecco una classe con un elenco di tasti che saranno sopra sotto basso a destra quindi tasti uguale pygame punto ok punto get pressed quindi quelli che effettivamente ne andremo a premere e qui adesso dobbiamo andare a vedere che cosa andiamo a premere di quanto far spostare il nostro biplano in pixel quindi if tasti e qui apriamo la nostra lista con le barre quadre pygame punto k left per farla andare a sinistra quindi se abbiamo premuto la freccia sinistra il nostro biplano sull'asse x biplano x dovrà essere meno uguale a 1 quindi dovrà spostarsi a sinistra per l'appunto se se if tasti pygame punto k punto k right per farlo spostare a destra e quindi biplano x sarà più uguale a 1 dopo di che lo facciamo scendere if tasti pygame pygame ce la facciamo salire pygame punto k up quindi la freccetta verso l'alto e per far salire vi ricordate cosa abbiamo detto che nell'asse cartesiane di pygame y va in negativo verso l'alto quindi non sarà più 1 per salire ma sarà meno 1 quindi biplano y meno uguale 1 e infine per scendere sull'asse y andremo a avere un più 1 quindi if tasti pygame punto k down ricordatevi due punti biplano y sarà più più uguale a 1 ok adesso cosa dobbiamo andare a definire anche i nostri proprio missili che si muoveranno sullo schermo ok anche quindi anche qui if not if missili quindi se il comando del nostro plano gli lo diamo o no il comando di missili lo scriviamo direttamente da codice quindi if missili la lista dei missili che abbiamo creato quindi non la classe ma la lista dei missili che abbiamo creato la impostiamo a meno 1 sull'asse x punto x deve essere minore di 150 aggiungiamo missili punto append di che cosa? della classe missili che abbiamo creato quindi tutto quel ciclo di tutta quella classe che abbiamo fatto prima in cui verranno definiti randomicanti i missili la loro posizione il loro movimento e l'eventuale collisione con il nostro plano quindi di missili classe in più for m in missili quindi il ciclo controlliamo la collisione per ogni missile m punto collisione di che cosa? del biplano con le sue coordinate biplano x e biplano y qui mi ha aperto una una parentesi di troppo ok ci manca qui la virgola ok e andiamo a capo ma ovviamente dobbiamo anche controllare che non ci sono collisioni tra i missili che avevamo creato tra i missili quindi if not tra i missili for m in missili if m punto tra i missili nelle coordinate di biplano e biplano x e impostiamo tra i missili come vero uguale a true e interrompiamo break basta così no perché adesso dobbiamo anche controllare che il nostro plano non tocchi terra quindi if biplano y maggiore di 160 pixel allora richiameremo la funzione di è perso quindi se scendiamo sotto i 160 pixel quindi 162 163 eccetera eccetera abbiamo perso facciamo scorrere il contatore dei punti punti più uguale a 1 ad ogni ciclo del nostro while e infine per chiudere tutto disegniamo gli oggetti e aggiorniamo lo schermo sempre ad ogni ciclo del nostro while quindi all'interno del nostro ciclo principale del gioco disegno oggetti e aggiorna bene e con questo abbiamo creato il nostro gioco qui ci mancano i due punti perfetto non abbiamo errori abbiamo creato il nostro gioco e il nostro gioco ci permetterà per appunto di fare tutto salviamo ovviamente ragazzi in modo frequente tutto il nostro progetto fatto questo ci se avviamo il gioco stesso eccolo qui ci potremo spostare con il nostro planino evitare i missili e se mai andremo a toccare un missile avremo game over riavviamo il gioco e se tocchiamo il pavimento andiamo in game over lo stesso spero che il video vi sia piaciuto commentate iscrivetevi al canale fatemi sapere se volete altre puntate su python o altri approfondimenti sul linguaggio di programmazione se volete un corso dalle basi a un sistema un pochino più avanzato di programmazione stessa e se volete altri esempi di gioco è tutto per oggi da vostri Bagatta Games un saluto a tutti voi ciao